buongiorno a tutte con questo video tutorial vogliamo aiutarvi e mostrarvi come montare la chioma del nostro unicorno presente sul manuale nuovo della primavera 2022 della rencalic guardando la testa già cucita quindi la parte frontale dell'unicorno partiamo dai primi due ciuffi posti sulla nuca e quindi andremo ad incollare il ciuffo numerato nel cartamodello come numero uno e subito a fianco il ciuffo numero due la chioma frontale in questo modo è già realizzata per quella invece posta sulla nuca dobbiamo partire sempre seguendo la numerazione dei cartamodelli dalla chioma che sarà posta al di sotto delle altre numerata come numero 3 e proseguire sovrapponendo e sormontando le altre chiome quindi da 4 nella parte centrale della cucitura andremo ad incollare la quinta chioma quindi questa è in ultimo sempre girando la testa dell'unicorno la sesta chioma che sarà laterale vediamo ora come posizionare il corno dell'unicorno lo andremo ad inserire tra le due chiome frontali in questo modo e ovviamente incolleremo con la colla caldo e invece per quanto riguarda le orecchie ne posizioneremo una in questa posizione come state vedendo quella frontale invece lo andremo ad applicare in quest'altra posizione non preoccupatevi per l'incollaggio perché sarà poi coperto con un fiore posizionato in questa posizione